La propria voce è per diventare consapevoli del ruolo che ciascun individuo riveste nella società. Con tale obiettivo è stata inaugurata a Esernia la stanza di Giulia, uno spazio di ascolto protetto per minori in cui ragazze e bambini possono far valere i propri diritti qualora vivessero particolari disagi nell'ambito familiare e scolastico. L'iniziativa voluta dall'ambito territoriale e dall'associazione Nuova Assistenza offre un aiuto concreto alle famiglie più vulnerabili. Giulia è una bambina che ha lottato fortemente per rimanere in vita e quindi abbiamo pensato tutti insieme, perché poi è stato un lavoro di squadra con l'ambito di Esernia e come di Esernia di chiamarlo in questo modo proprio per dare la forza e il coraggio a tutti coloro che devono lottare non soltanto per vivere, ma per vivere felici. L'ambito territoriale di Esernia di cui il comune capofila ha fatto questa bellissima iniziativa di inaugurare oggi questa stanza per l'ascolto protetto, quindi un plauso a tutti quelli che hanno collaborato affinché questo sogno diventasse realtà. La prima in tutto il Molise, siamo particolarmente orgogliosi ma soprattutto lo siamo perché in questo modo possiamo aiutare chi davvero ne ha bisogno. Poter esprimere la propria opinione confrontandosi con le figure preposte all'ascolto è anche un modo per curare le fragilità dei più piccoli, in particolare dopo i disagi legati alla pandemia. Sicuramente abbiamo vissuto un momento storico molto difficile, basti pensare già di per sé la nostra società è una società di tipo complesso, quindi dove è difficile mantenere unita la famiglia, quindi ci sono molte separazioni. Nello stesso tempo è intervenuta la pandemia che ha posto molti adolescenti e bambini rinchiusi nelle loro camerette, quindi dove si sono acuiti problemi tipo isolamento sociale, autolesionismo, disturbi alimentari, fenomeni quali bullismo e cyberbullismo. Inoltre c'è la guerra, quindi ricordiamo anche il problema dei minori stranieri non accompagnati, quindi le problematiche sono veramente tante, per questo noi istituzioni dobbiamo fare rete e collaborare con un unico scopo, quello di tutelare i minori. Credo che il diritto all'ascolto sia un diritto fondamentale, è anche sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi veramente sono molto orgogliosa di essere qui oggi perché sono sicura che la stanza di Giulia inaugurata al Comune di Sernia sarà sicuramente solo l'inizio di tante stanze di Giulia.